Elisabetta e il figlio Nathan ordinano di notte pancake e frutta. Il figlio si lamenta perché non c'era la Nutella. Dove scappi? Non tirar la porta! Dove scappi? Sei un monello! È tardissimo, sono quasi, non diciamolo ora, è tardissimo, quasi le tre di notte, due e mezzo. E guarda cosa abbiamo ordinato! C'è Nutella, Nutella, Nutella è qua. Ok, tutto qui, perfetto. Te anch'io, grazie. Tiramisù, pancake, se uno è mio e questo è di nato. Ti posso ripetere che hai la maglietta non bella? Addirittura, amore mi fai male! Amore, dalle quiscinate! Ti amo! Dopo aver mangiato i pancake alle due e mezza di notte, finisci a cuscinate con mamma Elisabetta. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.